Nella fascinante esplorazione della comunicazione e dell'interazione umana, emergono chiaramente affermazioni da evitare per promuovere un dialogo costruttivo e relazioni sane. Dalle espressioni cariche di superbia all'uso di frasi passive, il modo in cui comunichiamo gioca un ruolo fondamentale nella costruzione o distruzione dei legami sociali. Approfondiamo insieme ciascuna di queste affermazioni, esplorando il motivo per cui i menti brillanti preferiscono un approccio più consapevole per migliorare la qualità della comunicazione. Curioso di scoprire quali sono queste frasi? Andiamo subito a vederle. 1. Te l'avevo detto. Se utilizzata in un contesto in cui qualcuno ha commesso un errore o ha preso una decisione sbagliata, può generare un clima di conflitto e ostilità. Evitare queste frasi è una scelta consapevole delle menti brillanti, che preferiscono impegnarsi nella risoluzione dei problemi anziché alimentare dinamiche di conflitto o arroganza. Questo approccio promuove una cultura della collaborazione e dell'apprendimento continuo, fondamentale per il successo e lo sviluppo personale e professionale. 2. Questa potrebbe essere un'idea sciocca o o una domanda sciocca. Questi termini tendono a trasmettere un senso di incertezza e mancanza di fiducia in se stessi. Quando qualcuno esprime un'idea opposta a una domanda, l'aggiunta di parole come «potrebbe essere» o «sciocca» può indebolire il messaggio e influenzare negativamente la percezione degli altri. La comunicazione sicura e positiva è fondamentale per stimolare la collaborazione e lo sviluppo di idee innovative all'interno di un ambiente di lavoro o in qualsiasi contesto relazionale. 3. Non c'è problema Quando qualcuno esprime gratitudine dicendo «grazie» e la risposta è un semplice «non c'è problema», ciò può trasmettere involontariamente l'idea che ci sia stato effettivamente un problema o un disagio. Le menti intelligenti scelgono le parole con attenzione, privilegiando risposte che trasmettano positività, gratitudine e disponibilità senza suggerire alcun problema o disagio. Questa consapevolezza linguistica contribuisce a creare relazioni più forti e a promuovere una comunicazione aperta e costruttiva. 4. È sempre stato fatto così L'affermazione «è sempre stato fatto così» riflette una mentalità che tende a resistere al cambiamento, basandosi sulla continuità delle pratiche passate. Queste espressioni rappresentano un atteggiamento conservatore che può limitare le possibilità di miglioramento. Le menti brillanti, invece, adottano una mentalità aperta, abbracciando il cambiamento positivo come mezzo per innovare, apprendere e adattarsi in modo continuo. 5. Buona fortuna L'espressione comune «buona fortuna» è spesso utilizzata con l'intento sincero di augurare il massimo successo a qualcuno. Tuttavia, dietro a questa frase si cela una sottile sfumatura che può influenzare la percezione del successo come risultato del caso o del fatto. Il modo in cui formuliamo gli auguri può avere un impatto sulla percezione del successo. Augurare «buona fortuna» può sottolineare la casualità, mentre le menti brillanti preferiscono concentrarsi sulle qualità e sulle abilità, promuovendo un approccio più positivo e proattivo alla realizzazione degli obiettivi. 6. Con tutto il rispetto Quando si utilizza questa espressione, è fondamentale farlo con autenticità e attenzione. L'autenticità del rispetto si manifesta attraverso la coerenza fra ciò che viene detto e l'espressione non verbale. Se, ad esempio, il tono di voce o il linguaggio del corpo suggeriscono disprezzo o sarcasmo, l'espressione perde la sua efficacia e potrebbe essere percepita come ipocrita. Le menti intelligenti evitano di utilizzarla in modo casuale, assicurandosi che la manifestazione del rispetto sia evidente non solo nelle parole, ma anche nell'espressione non verbale. In questo modo, contribuiscono a promuovere relazioni più genuine e rispettose. Se il video ti sta piacendo iscriviti al nostro canale per ricevere altri video come questo. 7. Non posso Non posso può essere interpretato in vari modi e spesso può trasmettere un senso di mancanza di volontà o resistenza nei confronti di un compito. Le menti intelligenti riconoscono che una risposta così diretta potrebbe non solo limitare le opportunità di collaborazione, ma anche creare una percezione negativa nei confronti della propria disponibilità o impegno. Sostituire un semplice «non posso» con una spiegazione più dettagliata e un'offerta di collaborazione o alternative è un modo efficace per gestire le situazioni in cui ci si trova impossibilitati a soddisfare una richiesta. Questo approccio favorisce una comunicazione più aperta, costruttiva e orientata alla soluzione, contribuendo a mantenere rapporti professionali e personali positivi. 8. Non è colpa mia Dichiarare «non è colpa mia» potrebbe trasmettere l'idea che si sta cercando di sfuggire alle conseguenze o di scaricare la responsabilità su qualcun altro. Al contrario, ammettere apertamente di aver commesso un errore dimostra integrità e una volontà di affrontare le sfide in modo trasparente. Le menti intelligenti abbracciano la responsabilità dei propri errori e imparano da essi. Ammettere apertamente le proprie debolezze e discutere delle azioni correttive dimostra una maturità e integrità che contribuiscono a costruire relazioni più solide e a favorire una crescita personale continua. 9. Tu sempre o tu mai Sono generalizzazioni che possono facilmente diventare fonte di tensione nelle relazioni. Queste dichiarazioni categoriche suggeriscono un giudizio globale sulla persona coinvolta, senza focalizzarsi su comportamenti specifici o situazioni concrete. Evitare espressioni generalizzanti come «tu sempre» o «tu mai» è una pratica adottata dalle menti intelligenti per promuovere una comunicazione più accurata e costruttiva. Concentrarsi su comportamenti specifici o situazioni concrete aiuta a evitare fraintendimenti, riduce la tensione nelle relazioni e facilita la risoluzione di eventuali problemi in modo più efficace. 10. Questa cosa la farò in un minuto Questa affermazione rappresenta un esempio di comunicazione che potrebbe trasmettere fretta e, in alcuni casi, potrebbe incidere sulla qualità del lavoro svolto. Comunicare in modo chiaro la propria disponibilità e il tempo necessario, evitando di trasmettere fretta, è una pratica adottata dalle menti intelligenti. Questo approccio non solo contribuisce a mantenere la qualità del lavoro, ma anche a stabilire rapporti professionali basati sulla trasparenza e sull'integrità nelle comunicazioni. 11. Non è giusto L'esclamazione «non è giusto» è spesso una reazione naturale di fronte a situazioni percepite come ingiuste. Tuttavia, affrontare l'ingiustizia può essere complesso, concentrarsi sulla risoluzione è un approccio più costruttivo rispetto a lamentarsi senza agire. La chiave è spostare l'attenzione dalla lamentela all'azione. Proporre soluzioni costruttive è più efficace rispetto a concentrarsi solo sulle critiche. Ad esempio, anziché dire «non è giusto», potrebbe essere più produttivo dire «capisco che la situazione può sembrare ingiusta». Cerchiamo insieme una soluzione che possa risolvere il problema e garantire un trattamento equo per tutti. 12. Preconcetti legati al genere e all'età Evitare di etichettare le persone in base a stereotipi di genere significa riconoscere e valorizzare le abilità e le caratteristiche individuali di ciascuna persona, anziché giudicarle in base a presupposti culturali o sociali. Invece di dire, ad esempio, «le donne sono più adatte a questo tipo di lavoro», le menti intelligenti preferiscono elogiare specifiche competenze o qualità personali, come «apprezzo la tua creatività» nell'affrontare questo compito. Questo approccio non solo contribuisce a creare ambienti più inclusivi e rispettosi, ma promuove anche la diversità e il riconoscimento delle potenzialità uniche di ciascun individuo. 13. Ci proverò Questa affermazione è spesso utilizzata per esprimere una certa incertezza o titubanza nel prendere un impegno. Le menti intelligenti comprendono che l'uso di parole come «proverò» può trasmettere un senso di esitazione o mancanza di impegno deciso. Sostituire l'espressione «ci proverò» con un impegno più deciso contribuisce a comunicare con chiarezza e a trasmettere fiducia nelle proprie capacità. Le menti intelligenti evitano l'incertezza nel linguaggio, impegnandosi risolutamente verso gli obiettivi e promuovendo un approccio proattivo e determinato verso le sfide che si presentano. 14. Come ho detto prima Questa espressione potrebbe essere interpretata come un segnale di irritazione o frustrazione, specialmente se utilizzata frequentemente. Le menti intelligenti comprendono che la ripetizione può risultare noiosa o essere percepita come mancanza di pazienza. Per evitare che la ripetizione sia interpretata in modo negativo, preferiscono rappresentare nuovamente il concetto in modo chiaro e coinvolgente. Questo approccio non solo riduce il rischio di interpretare la ripetizione come fastidiosa, ma anche di migliorare la comprensione complessiva del messaggio. In conclusione Abbiamo imparato che il modo in cui esprimiamo pensieri e emozioni può influenzare notevolmente la percezione degli altri e la qualità delle nostre relazioni. Scegliere le parole con attenzione, evitando stereotipi, giudizi e generalizzazioni, è un passo verso una comunicazione più rispettosa, inclusiva e orientata alla soluzione. La consapevolezza delle parole diventa così uno strumento potente per costruire punti di comprensione e connessione nelle intricatissime trame delle interazioni umane. Ti lasciamo altri due video che potrebbero interessarti. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per altri video come questo, clicca sul pulsante iscriviti e non dimenticare di attivare la campana delle notifiche. Ciao e al prossimo video!